Michele, cosa ne pensi di questa partita abbastanza rognosa all'inizio? È data questa vittoria che è stata meritata, anche se con un po' di sofferenza, diciamo, ormai siamo abituati. C'è da registrare però una nota positiva, il ritorno di Scilimato che dà grande tranquillità a Repar. Questo ci permette di vivere la prossima settimana con molta tranquillità, aspettando gli amici di Via Rugga. Senti, un ultimo commento su quello che è il primo scorcio di questa stagione. Come la stai vivendo? Tu che sei bomber di razza e in C1 hai fatto sfragere. L'anno scorcio di questa stagione è abbastanza positivo, si sa, ci sono delle difficoltà soprattutto per amalgamare la squadra, ma io credo che nel proseguire il campionato proveremo un rassetto giusto. Grazie Michele, alla prossima!